Oggi proviamo il balsamo labbra più virale di TikTok. L'Anolips mi ha infatti inviato il loro balsamo labbra multiuso, 100% naturale e cruelty free. Perfetto per idratare le labbra, ottenere zigomi radiosi, ammorbidire le cuticole secche e anche talloni e zone appunto ruvide del corpo come ad esempio anche le ginocchia e i gomiti. In un unico tubetto avete veramente 101 usi ed è proprio lo slogan del prodotto. Lo stavo appunto mettendo sulle cuticole e mi è piaciuto un sacco, lo utilizzerò sempre, mi fa impazzire, è super super idratante e lascia anche le labbra morbidissime. Insomma un balsamo labbra idratante, nutriente e super intenso da non perdere. Vi consiglio di provarlo perché mi sta piacendo da morire come tutti i prodotti di l'Anolips che ho già testato, tipo i gloss. Devo dire che è molto molto valido. E poi lo sapete che mi piacciono i tubetti multiuso che con un solo prodotto posso andare a sistemare più zone del mio viso, del mio corpo. È una cosa che mi piace tantissimo e soprattutto salva spazio se uno viaggia tanto. Questo è come l'ho applicato io e infine questo è il risultato finale. Io lo promuovo a mani basse proprio. Bellissimo! Bellissimo! Bellissimo!